Oggi è l'8 marzo, auguri a tutte le donne. Noi uomini vi siamo infinitamente grati. E sì, perché se noi ci siamo evoluti, se non siamo più delle bestie come eravamo anni prima, è solamente grazie a voi. Voi che ci avete insegnato tantissimi valori. Ad esempio, uno banale. Ci avete insegnato a non essere più gelosi. Perché è vero, la parità dei diritti è la prima cosa. E quindi la gelosia è un sentimento inutile. Amore, scusa, ma dove stai andando? Eh? Eh, sto uscendo con un amico. No, scusa una cosa. Ma, qual amico? Un amico? Perché? Non posso avere un amico? Ma, no, che c'entra. Tu puoi avere tutti gli amici che vuoi. Io ho dei diritti, tu hai dei diritti. Per carità, non li voglio calpestare. Però così almeno sapere il nome, sapere con chi esci. Non chiedo altro. Tu non ti preoccupare, lascia fare a me. E' un mio amico. Lascia fare a me. Ciao, amore. Ciao, ciao, ciao. Amore, ma nemmeno un bacio, qualcosa? Ciao. Ciao, 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 amore. Ciao, 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 ciao. Noi ci fidiamo, ricordo. Ci fidiamo di quello che dite. Non ci lasciamo prendere dei pregiudizi, assolutamente. Non lo so, non lo so chi è. Mi ha detto semplicemente che è un amico. Ma questa qua non ha mai avuto amici in vita sua. Li deve avere proprio adesso che ci sono io. Guarda, non lo so, non lo so. Io, no, no. Non sono geloso, ma mi dà fastidio. Ho diritto ad essere così? Non lo so, fammi capire. Comunque tu devi scoprire chi è questa persona. Mi devi fare questo favore. Lo sai, tanto possibilmente lo conoscerai. Senti, conosci tu? Nonna, sai i cazzi di tutti. Conoscerai anche quelli di questo tizio. Va bene? Fammi sapere. Ciao, mamma mia. Sono stanchissima. Oggi è stata una giornata, hai cucinato tu per caso, perché io non ce la faccio. Amore, ti devo fare una domanda fondamentale. In questi mesi tu hai fatto qualcosa di cui ti devi pentire? Sì. Che cosa? Mi sono messa con te. Ma voi diciamolo. Le gioie che ci donate quando di fronte a un nostro regalo voi rimanete stupefatte. Che palle! Amore, io ce l'ho messo nel... Scusate, va bene. Vesta. Donne. Auguri. E mi sento anche in dovere di chiedervi scusa. A nome di tutti gli uomini. Perché a volte li prendiamo in giro. Ed è una cosa sbagliata. Non bisogna mai annuncare. Mai. Carlo. Ciao. Sì, sì. Bene, bene. No, no, non sono con un mio amico. Sì, sì, sì. Come hai detto? Un amico, un amico. Sì, sì. Bene, bene, va bene. Condividere le passioni con la propria donna. È qualcosa di meraviglioso. Amore, io vado. Ci vediamo questa sera, va bene? Ciao, 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 ciao. Dove stai andando? Come dove stai andando? Te l'ho detto, c'è la finale. Juve Milan. Forza Juve, sempre forza Juve. Vado da Francesco. Come scusa? Come scusa cosa? Te l'ho detto. Sto andando da Francesco per la partita. Ma deve venire una mia amica oggi. E viene domani la tua amica. Scusa, c'è una finale. Si chiama finale. Ce n'è una all'anno, no? E dai. Prego. Ah sì? Vai, vai dal tuo amico. Chi dà fastidio? A me dà fastidio? No, vai dal tuo amico, vai. Vai. La verità è una. Lottate tanto per i diritti. Ma quando fa come da voi lo ricordate al mondo di essere al donno. E questa è la verità. Scherzi a parte adesso. Auguri a tutte le donne che stanno seguendo e che non stanno seguendo. E poi diciamolo. Ma noi uomini, cosa saremmo mai senza una donna? Dei grandi stronzi. Grazie. 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 Grazie.